e adesso pubblicità questa pubblicità comparativa piccolo bonsai mini kim motta piccole mani differente qui bonsai tutti uguali non mangio eh e mini kim piccoli coni mania cacao mangio questo questo mangio tutti due lo sono poi anche piccoli gelotti mini desideri mini mega oh mini di motta piccoli piacere della ricca solo io ho mangiato l'otto e io farò a kiri